I polipi invaderanno il mondo Per Sparta Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo episodio di Tutorial Io sono Metafire e oggi impareremo a costruire Questa Questo secondo tipo di porta automatico Come si toglie? Ok perfetto Questo secondo tipo di porta automatico Però prima di farvi vedere come si costruisce Prima vi faccio vedere come funziona Allora basta andare con la nostra barca Qui dentro Che anche se ci sono le fence E i fence gate passeremo con la barca Dove potremo scendere Andare a fare la cacca, a mangiare la roba Fare la pipì eccetera eccetera Potremo tornare, salire sulla barca Premere il pulsante e Uscire Questo più che un porta automatico È una specie di garage E la cosa bella è che sia Da fuori non si può entrare Che Da dentro Neanche si può uscire Adesso andiamo a vedere Come si costruisce Ok iniziamo con il tutorial Allora Dopo aver creato la vostra cabina Il vostro box Create Una riga di fence Al di sotto dell'acqua E Una riga di fence gate Di cancelletti di legno Tutti quanti aperti Allo stesso livello dell'acqua Dopodiché Scendete di un blocco E create Il ripiano del vostro box Che deve essere Allo stesso livello Delle fence Adesso blocchiamo qui In modo Da Non poter Riuscire ad uscire Grazie alle fence E allo stesso tempo Non poter riuscire Ad entrare Adesso Mettiamo Un pulsante lì E facciamo uscire Il nostro Circuito Mettia Oddio Mi sto impizzando Mi sto impiccando Ok allora Mettiamo qui Due Arizona repeater E qui Un repeater Settiamo I due a destra A 4 tick Mentre Quella a sinistra Lo lasciamo a un tick Adesso Scendiamo di un blocco E mettiamo Due pistoni normali A faccia in alto E Sopra di essi Due blocchi di sabbia Dopodichè mettiamo Due unità di redstone Dopo i blocchi di sabbia Qui Mettiamo Un blocco di legno E Un repeater Adesso Scendiamo Con la redstone E mettiamo 4 repeater Adesso Entriamo Qui dentro E mettiamo I 4 dispenser Con all'interno Ognuno Un secchio d'acqua Adesso vediamo Che premendo Questo pulsante L'acqua si attiverà E dopo 2 o 3 secondi Si disattiverà completamente Quindi Prendendo Una base Ce riuscimo Prendendo una barca Basta salirci Tenere premuto Il tasto W Cioè quello per andare avanti Premere il pulsante E vediamo Che si riesce Ad uscire dal box La stessa cosa Per entrare Basta premere shift E lasciare la barca qui E ogni volta Che vorremmo Riuscire Per andare a cercare Le caccole d'oro Possiamo Rientrare nella barca Premere il pulsante Ed uscire dal nostro box E ovviamente Non distruggersi Come un pirla Addosso Alla Sanson Comunque ragazzi Questo video vi finisce qui Ho sfondato la tastiera Con il dito Non so perché Comunque Vi invito a lasciare Un mi piace A commentare questo video E ovviamente A scrivere Nei commenti Vi lascio in descrizione Se non l'aveste visto Il primo tipo Di porta automatico Da Matteo Faire è tutto Inllo studio